Gramsci aveva aderito al Partito Comunista d'Italia nel 1921 sin da subito quindi assieme al gruppo torinese dell'Ordine Nuovo col quale si era formato nel corso del Bienio Rosso. Per i primi anni di vita del PC Gramsci ed il suo gruppo rimasero nell'ombra della direzione di Amadeo bordiga del partito. Questa direzione aveva alcune specificità. L'internazionale comunista leniniana la considerava di ultrasinistra perché su diversi punti dissentiva dalle tesi del Terzo e del quarto congresso dell'internazionale comunista per quanto riguarda il fronte unico con altre organizzazioni politiche della classe operaia che la direzione del PC bordighiana negava ma anche rispetto alla posizione di astensionismo di principio elettorale di cui appunto bordiga i compagni erano persuasi. La presentazione del PC del partito alle elezioni politiche del 21 e del 24 fu l'effetto soltanto della disciplina internazionale che quel gruppo dirigente appunto guidato da bordiga sentiva e rispettava. Nel 1923 però nel settembre di quell'anno Gramsci è da più di un anno a Mosca e non ultimo sotto la pressione dei dirigenti del partito bolshevico Trotsky in primo luogo Gramsci abbandona la sua opposizione alla politica di fronte unico allo slogan del governo operaio e contadino che fu la parola d'ordine tattica approvata dal congresso dell'internazionale nel 1922 ancora una volta con l'opposizione del gruppo dirigente italiano e qualche mese dopo appunto Gramsci va oltre e riconosce alla tattica del fronte unico una valenza universale e non limitata ad una qualche area geografica del pianeta o ad un qualche settore appunto socio-economico. quasi nel medesimo tempo Gramsci ritorna in Italia e l'internazionale comunista lo pone burocraticamente alla testa del partito assieme a quel piccolo gruppo di quadri che era maturato assieme a lui sin dagli anni del bienio rosso. Quel gruppo dirigente è ancora minoritario nel partito come emerge nella conferenza di Como del giugno 1924 ma è messo in sella da una manovra dell'internazionale comunista di Zinoviev che è incapace di discutere, di continuare a discutere politicamente con la direzione bordigliana del partito comunista d'Italia. Quell'atto per molti aspetti costituisce uno strappo, il primo strappo con la tradizione politica leninista dell'internazionale comunista e fu il battesimo in Italia dei metodi zinovievisti di organizzazione che dominarono nell'intero internazionale nella fase della cosiddetta bolshevizzazione dei partiti comunisti. Che cosa fu la bolshevizzazione? Nonostante il nome non si trattò certo dell'assunzione e della discussione degli insegnamenti della storia del bolshevismo e della rivoluzione russa ma fu piuttosto una tendenza da parte del gruppo dirigente dell'internazionale a dirimere le questioni politiche ricorrendo a mezzi organizzativi. Fu dunque una tappa, la prima della degenerazione dell'internazionale comunista. Il partito italiano dunque in piena crisi Matteotti, quando per alcuni mesi le masse tornano in fermento, il partito italiano è riorganizzato direttamente da Mosca e Gramsci ne è posto alla testa. Durante la crisi Matteotti la posizione del partito comunista d'Italia è oscillante. In un primo momento si seguono le opposizioni liberali e riformiste aventiniane, cioè quelle opposizioni che escono dal Parlamento in protesta contro l'omicidio del deputato socialista da parte di sicari fascisti. Poi anche su pressione dell'internazionale e di politica stesso si pone termine a questa posizione subordinata al Comitato delle Opposizioni ed il PC coraggiosamente utilizza la piattaforma, la tribuna parlamentare per denunciare i crimini del fascismo e di proporre con megafono costituito dal Parlamento una mobilitazione diretta di massa come unico mezzo per rovesciare il fascismo. Bene, quindi in questa fase particolarmente acuta e tumultuosa della lotta politica quando Gramsci era sembrato avvicinarsi alle idee autentiche del boscevismo di Lenin e di Trotsky, la sua evoluzione però si incrocia con una tempistica, una cronologia decisamente infelice con l'inizio dell'involuzione, prima in senso zinovievista, poi stalinista, dell'internazionale comunista. Quindi in quel biennio Gramsci dirige il partito seguendo metodi organizzativi errati e ricorrendo più volte a minacci e a sanzioni disciplinari nei confronti della sinistra interna. Nonostante tutto questo, quando si celebra il terzo congresso del Partito Comunista d'Italia, che poi ebbe luogo nel gennaio 26 nei pressi di Lione, le tesi politiche del partito sono ancora improntate a criteri sostanzialmente di classe, ovvero sia lo zinovievismo è avanzato soprattutto come concezione organizzativa, ma non ha ancora pienamente rovinato il partito. La tesi numero 4 di Lione per esempio chiarisce in modo tuttora brillante la natura della futura rivoluzione italiana che avrebbe rovesciato il fascismo e definisce anche molto correttamente nella classe operaia quella che sarebbe stata la principale forza motrice di questo processo. Tutte prospettive che il 43-48 avrebbe verificato. Il cuore della tesi 4 approvata a Lione nel 26 dice, cito, il capitalismo è l'elemento predominante nella società italiana e la forza che prevale nel determinare lo sviluppo di essa. Anche da questo dato fondamentale deriva la conseguenza che non esiste in Italia la possibilità di una rivoluzione che non sia la rivoluzione socialista. Nei paesi capitalistici la sola classe che può attuare una trasformazione sociale reale e profonda è la classe operaia. Si tratta dunque di prospettive sul futuro movimento di massa corrette e che prefigurano una linea opposta a quella che poi togliati ed il partito nuovo seguiranno dopo la svolta di Salerno del 1944 di cui ovviamente il primo responsabile fu Stalin a Mosca. Sul terreno organizzativo però la bolshevizzazione aveva lasciato un segno negativo più marcato. Le tesi del centro gramsciano infatti proibivano di fatto le frazioni aprendo la strada al futuro monelitismo stalinista. Politicamente Gramsci però in questo biennio non era rimasto indenne da mutazioni di una certa importanza. Davanti infatti all'esplodere del conflitto tra la burocrazia e l'opposizione di sinistra in urso scoppiato nel dicembre del 1923 e davanti al trasferirsi di questo conflitto all'interno dell'internazionale comunista, Gramsci scelse di situarsi a lato della troica ovvero l'alleanza tra Zinovev Kamenev e Stalin contro l'opposizione di sinistra. Non fu capace di individuare come altri dirigenti dell'internazionale fecero i primi segni di degenerazione burocratica dello stato sovietico e dell'internazionale comunista e per molti aspetti si illuse di poter rimanere al di sopra della mischia dando un proprio assenso alla frazione di Stalin senza però farsene il campione più sfegatato. In questa scelta che Gramsci sintetizzò anche dicendo che lui aveva prediletto una prospettiva nazionale mentre Amadeo Bordiga aveva scelto in base ad una prospettiva internazionale, vediamo anche un elemento di subordinazione di Gramsci a un certo provincialismo. In ogni caso ormai nel 1926 non si poteva più rimanere al di sopra della mischia e Gramsci ancora nella lettera spesso citata al comitato centrale del PQS dell'ottobre 26, lettera che Togliatti non mostrò, Gramsci comunque si schierò apertamente a favore della frazione di Stalin all'interno del partito comunista dell'URSS. La sua idea peraltro era che l'opposizione che era diventata nel frattempo opposizione unificata perché Zinovi e Vekamenev si erano sottratti all'abbraccio di Stalin, all'alleanza con Stalin, in questa opposizione secondo Gramsci non riusciva a concretizzare, a comprendere fino in fondo il tema dell'egemonia e dunque era incapace di apprendere alla classe operaia la necessità di compiere alcuni sacrifici per poter mantenere l'alleanza coi contadini. In altri termini con questa posizione Gramsci dava il suo assenso alle tesi di Bukharin il quale sosteneva che si dovesse approfondire la NEP, la nuova politica economica fatta di concessioni ai contadini ricchi e medi per poter ulteriormente sviluppare l'economia e che questa fosse una necessaria fase di transizione. Ora per Gramsci questa linea bukariniana era la traduzione concreta del concetto di egemonia in Unione Sovietica e dunque egli nonostante abbia chiesto in quella medesima lettera a Stalin e Bukharin di non voler stravincere con l'opposizione, egli si collocò indubbiamente dal lato di Stalin e Bukharin. Nel 1929 quindi quando il decimo plenum del comitato esecutivo della terza internazionale promuove la svolta avventurista associata alla teoria del social fascismo possiamo supporre che Gramsci fosse ancora probabilmente piuttosto vicino politicamente alle tesi di Bukharin che in un primo momento si fosse anche egli al social fascismo che implicava in urs l'abbandono brusco della NEP e l'avvio di piani quinquennali e della collettivizzazione forzata delle campagne e d'altra parte nell'internazionale comunista ormai in via di stalinizzazione quella svolta il social fascismo si basava sulla convinzione che social democrazia e fascismo fossero divenute due stelle gemelle. In Germania questo significò il rifiuto di organizzare qualsiasi tipo di fronte unico antinazista col partito social democratico anche al fine di difendere le proprie sedi dalle bande hitleriane. Questa svolta in Italia scoppiò letteralmente esplose in faccia al PC perché nel nostro paese il social fascismo si traduceva nella prospettiva di un'imminente disgregazione del regime fascista ed in un verbalismo rivoluzionario del tutto separato dalla realtà incluso appunto il rifiuto di qualsiasi parola d'ordine democratica come poteva essere quella di assemblea costituente. Gramsci in carcere a Turi espresse il suo disaccordo veemente con questa nuova linea di ultrasinistra che subì si dice come un cito cazzotto nell'occhio. Nell'ipotesi del crollo del fascismo che per Gramsci non era imminente egli tuttavia insistete sulla necessità che si sarebbero dovute utilizzare con audacia rivendicazioni democratiche come quella dell'assemblea costituente non nella prospettiva di una riforma democratica del sistema ma più che altro nella prospettiva di un interludio democratico borghese causato appunto dalla debolezza del partito rivoluzionario che dunque avrebbe costretto la rivoluzione processo rivoluzionario a tempi più lunghi ed anche sarebbe stato necessario per le masse una sorta di palestra per apprendere i limiti e gli inganni del parlamentarismo. Gramsci sottolineò secondo un rapporto che fece avere alla centrale del partito Atos-Lisa che lo aveva visto in carcere. Gramsci sottolineò che nell'assemblea costituente naturalmente i comunisti avrebbero dovuto dimostrare nella pratica l'assoluta illusorietà di una trasformazione socialista per via istituzionale e parlamentare. Atos-Lisa così sintetizza le posizioni assunte da Gramsci in carcere. Leggo Le prospettive rivoluzionari in Italia devono essere fissate in numero di due, cioè la prospettiva più probabile e quella meno probabile. Ora, secondo me, la più probabile è quella del periodo di transizione. Perciò a questo obiettivo deve improntarsi la tattica del partito senza tema, paura, di apparire poco rivoluzionario. Deve far sua, prima degli altri partiti in lotta contro il fascismo, la parola d'ordine della costituente, non come fine a sé ma come mezzo. La costituente rappresenta la forma d'azione nel seno della quale possono essere poste le rivendicazioni più sentite della classe lavoratrice, nel seno della quale può e deve svolgersi, a mezzo dei propri rappresentanti, l'azione del partito che deve essere intesa a svalutare tutti i progetti di riforma pacifica, dimostrando alla classe lavoratrice italiana come la sola soluzione possibile in Italia risieda nella rivoluzione proletaria. Citato per esteso questo passaggio del rapporto di Atos Lisa su Gramsci alla centrale del partito perché quando nel dopoguerra le posizioni di Gramsci sull'Assemblea Costituente vengono presentate dal gruppo dirigente del partito in modo unilaterale e senza i necessari riferimenti al dibattito internazionale, ciò è funzionale al gruppo dirigente togliattiano per interpretare Gramsci come l'anticipatore della politica seguita con i fronti popolari e poi con i governi di unità nazionale durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi un Gramsci anticipatore della svolta di Salerno. E qui arriviamo con tutti gli elementi necessari per avere una comprensione al tema del binomio guerra di posizione, guerra di movimento per come è espresso nei quaderni dal carcere. Ora, Gramsci parla di politica, di tattica, di strategia rivoluzionaria prendendo a prestito termini dal lessico militare. Questo non era affatto inusuale tra marxisti, anzi era sostanzialmente un'abitudine a partire dal riferimento al testo di von Clausewitz, ufficiale prussiano di inizio XIX secolo il quale aveva scritto appunto che la politica era una continuazione della guerra con altri mezzi. Frase a tutt'oggi apprezzata dai marxisti nel suo significato più profondo. Nella riflessione di Gramsci su guerra di posizione e guerra di movimento c'è una decisa sottolineatura dell'importanza della guerra di posizione per la tattica di un partito comunista che si debba abbattere nei paesi dell'Occidente capitalista avanzato. Questa sottolineatura diede già dai tempi di Togliatti l'occasione per presentare un Gramsci che opponesse rigidamente la guerra di posizione, ovvero la lenta costruzione di un blocco sociale, alla guerra di movimento, cioè la prevalenza dell'offensiva aperta, in questo caso politicamente, contro la borghesia. E questa immagine si adattava perfettamente alla strategia gradualista che ormai aveva assunto il PC con la democrazia progressiva e applicata durante la resistenza. In questo quadro il paziente lavoro amministrativo in un municipio conquistato dal PC o la nascita di una cooperativa rossa, casa matta gramsciana per eccellenza all'interno del capitalismo, potevano essere presentate come azioni da contrapporre al presunto velleitarismo di chi continuava a sostenere un'ipotesi rivoluzionaria di rovesciamento del capitalismo e di chi magari anche all'interno del PC criticava che si fosse imboccata anche formalmente la strada della via italiana, cioè parlamentare e pacifica al socialismo. Bisogna chiedersi, in ogni caso, se vi siano stati nei quaderni dei punti, delle note effettivamente deboli che si siano prestate più di altre per essere utilizzati dagli epigoni per aprire brecce e rintracciare possibili cammini di revisione del marxismo. In occidente, scriva Gramsci, lo stato non è riducibile al suo apparato repressivo centrale perché attorno ad esso sussistono una serie di fortificazioni, trincee, case matte, anche le chiama Gramsci, della borghesia che talora si sono stratificate nel corso di secoli. In generale, di conseguenza, per Gramsci, in occidente il proiettariato avrebbe incontrato una resistenza maggiore da parte della classe dominante e dunque avrebbe dovuto combattere una lunga guerra di posizione attorno alle cosiddette case matte della società. Fin qui nulla di discutibile. Che cosa però allora non torna? Che Gramsci non abbia mai chiarito, nei quaderni, se il proletariato avrebbe dovuto e soprattutto potuto conquistare il potere pacificamente, gradualmente, cioè dopo un lungo processo, dopo una lunghissima fase di erosione della supremazia della borghesia. In altre parole, se il proletariato avrebbe potuto accedere alla conquista del potere allo stesso modo della borghesia che talora vi era arrivata dopo secoli nei quali aveva eroso il potere della nobiltà e si era sviluppata come potenza economica all'interno dei pori della società feudale. Per dirla in poche parole, in Gramsci la distinzione tra guerra di posizione e guerra di movimento e l'accento posto sulla prima significa che il comunista sardo ritiene che per imporre il suo potere, la sua visione del mondo e la trasformazione della società, la classe lavoratrice non abbia bisogno di una guerra di movimento ovvero di una rottura rivoluzionaria, questo è il punto. In Gramsci, lo diciamo, non c'è nessun riferimento diretto che possa far intendere di una sua fiducia nell'evoluzione in senso proletario, socialista, delle istituzioni liberali. Tuttavia l'insistenza nella importanza della guerra di posizione ha permesso un lavoro di interpretazione talora anche politicamente malizioso di questa tesi gramsciana. Ma il Gramsci dei quaderni possedeva anche un'altra preziosa qualità agli occhi dello stalinismo cioè proprio in alcune note su guerra di posizione e guerra di movimento infatti sono disseminati alcuni giudizi piuttosto negativi grossolani e imprecisi anche, aggiungiamo noi, su Trotsky. In più punti dei quaderni infatti Gramsci muove a Trotsky l'accusa, inverosimile in realtà, di cadornismo politico ovvero di concepire l'azione politica sempre e per principio all'offensiva senza essere in grado di adeguare dunque la propria riflessione alla concretezza degli alti e bassi della lotta di classe. Questo presunto limite di Trotsky è ricollegato da parte di Gramsci alla teoria troschiana della rivoluzione permanente che era stata messa nel mirino della restaurazione burocratica e conservatrice staliniana sin dal gennaio 1924. Presa la lettera, le critiche di Gramsci a Trotsky nei quaderni riproducono il racconto standardizzato che sul fondatore dell'Armata Rossa veniva diffuso in quegli anni dallo stalinismo a livello internazionale. Contrariamente a quanto scrive Gramsci invece, che parla giustamente in questo caso di Lenin come il grande teorico dell'egemonia e della politica del fronte unico, Trotsky fece blocco proprio con Lenin nel 21 e nel 22 nei congressi della terza internazionale per convincere la maggioranza dei delegati, tra cui gli italiani, della necessità di un riorientamento tattico incarnato nella politica del fronte unico. Affermazioni di Gramsci dunque sono del tutto errate e sono anche troppo forzate le conclusioni di Emmanuel Saccarelli, uno studioso gramsciano, quando scrive che Trotsky fu per Gramsci uno schermo protettivo, cioè criticava in realtà la politica del terzo periodo utilizzando Trotsky e parlando d'altro. Ora, come si può ignorare però che la critica all'ultrasinistrismo della politica del terzo periodo, accompagnata da una presa di distanza da Trotsky, fu precisamente la posizione che assunse l'opposizione internazionale di destra e bucariniana del Comintern, quella che venne diretta dal gruppo tedesco riunito attorno a due importanti dirigenti del PC tedesco, ovvero Brandler e Talahheimer. Che lo sviluppo di Gramsci andasse dunque in quella direzione è probabile, anche per il suo passato recente nella internazionale comunista di Zinoviev. E tutto questo spiegherebbe anche assai bene il bisogno che sente Gramsci di marcare una linea di separazione netta tra sé e Trotsky, anche facendo affermazioni che sapeva bene, per la sua precedente militanza politica, essere scorrette. Si tratta peraltro di un'ipotesi ragionevole e razionale, anche perché tiene in considerazione, per inquadrare la collocazione di Gramsci nell'internazionale comunista, non solo di una questione che sia la lettera di Gramsci dell'ottobre 26, la sua critica al social fascismo o altro ancora, ma l'insieme del suo percorso politico per quanto esso è a noi noto. Ma dal ragionamento su guerra di movimento e guerra di posizione si slitta quasi impercettibilmente sul terreno della riflessione gramsciana a proposito dell'egemonia. In Gramsci quella riflessione diventa un riferimento insistito alla solidità e all'articolazione del dominio borghese nell'Occidente capitalistico avanzato ed anche quindi in un grado tendenzialmente maggiore di consenso degli oppressi rispetto agli oppressori, grado di consenso che è anche in grado di ridurre le espressioni più eclatanti del dominio coercitivo da parte dei capitalisti. Anche in questo, nonostante quanto dicano molti gramsciani d'accademia, non c'è nulla di così nuovo rispetto alla tradizione politica leninista della terza internazionale. Un concetto di questa natura, di questo tipo, infatti fu illustrato in modo penetrante da Lenin già nell'estremismo, malattie infantili e comunismo, testo del 1920, che a sua volta si basava sulle acquisizioni di Lenin nel testo sull'imperialismo, nel quale Lenin scrisse che uno degli effetti politici di questa nuova fase del capitalismo era la formazione nei paesi imperialisti di una, virgolette, aristocrazia operaia che poteva accampare ad un livello di vita leggermente superiore rispetto alla media della sua classe di provenienza grazie alle briciole dei superprofitti coloniali. Questo concetto appunto venne ripreso da Lenin nel 1920 quando nell'estremismo scrisse, cito, in paesi più progrediti rispetto alla Russia quel certo carattere reazionario dei sindacati si è manifestato e doveva indubbiamente manifestarsi con molta più forza che da noi. I menscevichi russi hanno trovato, e in pochissimi sindacati trovano tuttora, l'appoggio dei sindacati a causa della grettezza corporativa, dell'egoismo e dell'opportunismo professionale. I menscevichi dell'Occidente si sono annidati molto più stabilmente nei sindacati. In Occidente si è delineato, con molta più forza che da noi, uno strato di aristocrazia operaia, corporativistica, gretta, egoista, sordida, interessata, piccolo borghese, di mentalità imperialista, asservita e corrotta dall'imperialismo. Questo fatto è innegabile. In questo senso dunque, già va a ripeterlo, Gramsci non innovava in nulla rispetto alle conquiste teoriche dei primi quattro congressi mondiali dell'internazionale. In alcuni frammenti, però, la guerra di manovra appare nei quaderni gramsciani come una sorta di strategia residuale, attualizzabile soltanto ai margini dello sviluppo capitalista, in Oriente, per utilizzare la terminologia gramsciana. Al contrario, in Occidente, dove lo Stato è soltanto la prima trincea esterna del dominio di classe, il nucleo centrale della società è costituito dalla cosiddetta società civile, che a sua volta è esterna alla sfera economica, diversamente, sia detta un passant, dall'uso comune del termine in Marx, ma anche in Hegel. Quando Gramsci scrive, cito, l'ultimo fatto del genere, cioè una guerra di manovra riuscita, l'ultimo fatto del genere nella storia della politica sono stati gli avvenimenti del XVII. Essi hanno segnato una svolta decisiva nella storia dell'arte e della scienza politica. Queste righe, assieme all'osservazione sullo scacco dell'avanzata dell'armata rossa su Varsavia nell'agosto del 1920, pongono con qualche grado di ambiguità il tema di una eventuale contrapposizione tra la tattica dei bolshevichi nel XVII, che pure fecero abbondantemente uso tra il febbraio e l'ottobre del metodo del fronte unico, e una strategia corretta nei paesi a capitalismo avanzato. Proseguendo, in un passo appena successivo, Gramsci pare fornire una risposta, procedendo ad una vera e propria trattazione teorica di questo punto, nella risposta si contrappongono in maniera netta Oriente e Occidente. Cito Gramsci In Oriente lo Stato era tutto, la società civile era primordiale e gelatinosa, nell'Occidente tra Stato e società civile c'era un giusto rapporto, e nel tremolio dello Stato si scorgeva subito una robusta struttura della società civile. Lo Stato era solo una trincea avanzata, dietro cui stava una robusta catena di fortezze e di case matte. Ora, le conclusioni di questa nota, ancor più di quelle della nota precedente, sono il passaggio più utilizzato dai commentatori riformisti quando debbono sostenere la rottura di Gramsci con la visione comunista. D'altra parte, Gramsci e Trotsky criticò sempre le posizioni di chi faceva o della manovra o della posizione un principio assoluto, affrontando così questa questione senz'altro in termini più chiari di quelli che emergono dalle notte gramsciane. In un suo testo di dottrina militare Trotsky scrive, cito, Senza offensiva non si perviene alla vittoria, ma la vittoria è di chi attacca quando è necessario e non di chi attacca per primo. A queste osservazioni brillanti Trotsky aggiungeva che non si doveva con ciò intendere che in Occidente la guerra tra le classi potesse essere ridotta a pura guerra di posizione. Una tale precisazione non c'è nel Gramsci dei quaderni. Questo fondamentalmente lo ha reso interpretabile e forzabile prima da parte di Togliatti, in seguito da parte dell'Accademia Gramsciana liberale e riformista. Come possiamo spiegare allora che, stante queste posizioni reali di Trotsky, nei quaderni, Gramsci lo critichi, facendone una vera e propria caricatura che assimila la posizione di Trotsky ad una sorta di volontà di esportare la rivoluzione napoleonicamente, cioè attraverso mezzi militari e burocratici? Non abbiamo tutti gli strumenti per comprendere se Gramsci avesse cambiato posizione rispetto ai dibattiti a cui aveva assistito precedentemente nell'internazionale comunista, oppure se, il che non è da scartare, in modo non limpido stesse sfigurando la posizione con cui polemizzava, oppure ancora se avesse deciso di coprirsi, o se la causa sia un'altra ancora. Però c'è una contraddizione e anche una debolezza effettiva in Gramsci stesso, ed è strumentale aggiustarla a proprio gradimento anni o decenni dopo. Bisogna in questo senso dare a Gramsci quel che è di Gramsci, senza temere però di metterne anche in evidenza gli errori. Il compito è stato reso difficile nei decenni alle nostre spalle dalla sterminata letteratura gramsciana che prosegue tuttora e che è una vera e propria coltre ideologica che impedisce di riconoscere Gramsci al netto di tutte le critiche che gli si possono fare come un comunista. I quaderni dal carcere però, è innegabile, si sono prestati più di qualsiasi altro scritto per deformare l'intera figura di Gramsci e il suo intero percorso politico. Bisogna quindi assieme allo studio metodico e rigoroso dell'evoluzione politica di Gramsci ricordare che dopo la crisi della rivoluzione russa e dell'internazionale comunista fu Trotsky a sviluppare il marxismo e a porlo all'altezza delle nuove sfide e di conseguenza da lì, da quel pensiero e da quell'azione, anche oggi le nuove generazioni di rivoluzioni, di rivoluzionari dovranno passare per formarsi e prepararsi alle battaglie imminenti che ci attendono nella lotta di classe. Questo ragionamento naturalmente per i Gramsciani d'Accademia è un libro chiuso e non pretendiamo nemmeno che lo capiscano. Come non pretendiamo che capiscano il Gramsci comunista che è poi in ultima analisi l'ultimo che esistete ed è quello che ricordò Pietro Tresso dirigente del PC, membro dell'ufficio politico di quel partito fino a quando nel 30 venne espulso per trotskismo ebbene nel 1937 quando ricevette la notizia della morte di Gramsci Tresso la commentò così e così salutò il suo ex compagno di battaglia con parole che noi non sapremo superare e dunque vogliamo concludere proprio con le parole di Tresso la nostra relazione di oggi. Gramsci è morto ma dopo aver assistito alla decomposizione e alla morte del partito che egli aveva potentemente aiutato a costruire e dopo aver sentito nelle sue orecchie i colpi di pistola scaricati da Stalin che hanno abbattuto tutta una generazione di bolshevichi. Gramsci è morto ma dopo aver saputo che altri vecchi bolshevichi come Bukharin, Rikov e Rakowski erano già pronti per il macello Gramsci è morto per un colpo al cuore forse non sapremo mai che cosa ha contribuito di più ad ucciderlo se gli undici anni di sofferenza nelle prigioni musoliniane o i colpi di pistola che Stalin ha fatto tirare alle nuca di Zinoviev di Kamenev, di Smirnov, di Piatakov e dei loro compagni nei sotterranei della GPU Addio Gramsci Grazie a tutti Grazie a tutti.